Assicurare alla propria famiglia un ambiente confortevole e soprattutto sicuro è prerogativa di ognuno. A tal proposito, lo showroom di D'Amico Arreda di Civitanova del Sannio ha aperto le porte al convegno di informazione e se ristrutturassi casa, una convention con lo scopo di offrire uno spunto di riflessione a quante hanno in progetto appunto di riqualificare la propria casa, sfruttando, perché no, le detrazioni fiscali previste dallo Stato. Anna D'Amico spiega perché l'azienda D'Amico ha sposato questa iniziativa. La D'Amico ospita questa bellissima convention proprio per dare informazione su ciò che sono i bonus fiscali perché in questi bonus fiscali diciamo riguarda anche l'arredamento perché lo Stato dice che i bonus ci sono anche sui mobili quindi ci sentiamo parte in questa convention. Dà un'importanza al nostro marchio perché non siamo D'Amico non è solamente progettazione ed arredare casa ma anche D'Amico ospita le conventione per dare informativa su tutto ciò che riguarda proprio le leggi e in questo caso i bonus fiscali. Non solo detrazioni fiscali ma anche ristrutturazione, risparmio energetico, salvaguardia del territorio sono al centro del convegno come è evidenziato l'architetto Giacinta Manzo, membro dell'associazione Molistart promotrice dell'evento. L'associazione Molistart ha organizzato diversi convegni sul territorio a carattere informativo e questa volta ci incentriamo sul tema delle ristrutturazioni e quindi della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente tenendo conto che approfittiamo ancora quest'anno delle detrazioni fiscali quindi tutto il 2015 c'è ancora in vigore il tema delle detrazioni fiscali.